Tutto gasato, ero lì con dei miei amici, tra l'altro tutti gasati, cazzo poi arriva Will Smith, cioè ti entra La cracarella Ti entra Will Smith, in realtà in quel video non recito, cioè mi sto cagando in mano Vorrei capire come sei diventato Fabio Rovazzi, perché, ti spiego Dagli occhi dell'italiano, cioè di chi ti segui, di chi ti conosce Cavolo, io personalmente per esempio ti vedo, ti ho sempre visto insieme ai personaggi più incredibili Will Smith, no beh, assurde Come ci arriviamo lì, com'è partito tutto, cioè vorrei capire questa cosa Ma allora, in realtà, e poi mi fa ridere perché in tutto questo processo il commento medio è raccomandato E io, cioè non capisco da chi, perché Io infatti te l'ho chiesto perché so che non è così Cioè io ho perso mio papà quando avevo 17 anni, mia mamma fa la biologa, quindi chi è che mi raccomanda Cioè, quindi questa roba mi ha sempre fatto morire da ridere e ho sempre tenuto un po' questo mistero Perché comunque, non so, a un certo punto ho avuto anche la mezza idea di uscire con una finta comunicazione Tipo sono il figlio di un principe, vabbè, vabbè, ma questa è una puttanata Guarda, in realtà in modo molto naturale Nel senso che io, nel momento in cui ho fatto Andiamo a Comandare E sono arrivato a tutti gli italiani In quel momento ero, cioè di colpo ho avuto accesso a personaggi e stima di personaggi Che è arrivata in modo naturale, cioè non l'ho cercata io Ovviamente ne sono felicissimo e onorato, ma è arrivata in modo naturale Poi ti faccio un esempio, no? Cioè se dobbiamo studiare un attimo la timeline di questa cosa Parlo da montatore Cioè tipo, featuring con Morandi Nel momento in cui ho fatto il featuring con Morandi È un pasparto gigantesco Cioè è come se tu oggi, non so, inviti qua Rovazzi No, no, vabbè, tipo, non so, una figura veramente istituzionale Che non si presterebbe a fare una cosa, un podcast Da quel momento chi è che ti dice no? Certo Capito? E questo per me Il famoso ospite porta ospite Però non è stato calcolato Cioè non è che ho detto, devo fare il featuring con Morandi Perché allora, cioè è venuto tutto in modo naturale Anzi, la cosa con Morandi era nata perché io ero fan dei Oh madonna C'è che ci devo pensare? Vabbè qua cazzo Sì, sì, si taglia Ciao montatore, cazzo poi Morandi non mi viene in mente Lonely Island Io in quel periodo ero innamorato di Lonely Island E avevano fatto questo pezzo con Michael Bolton Che è un po' il pavarotti americano E quindi ho avuto l'ispirazione per fare la cosa con Gianni Però poi dopo per dire Arriva la richiesta di Will Will non arriva Cioè non è che Sony mi ha scritto Guarda abbiamo un'opportunità di un extra junket con Will Blah 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 Potresti fare questa cosa nella stanza eccetera No, mi arriva la richiesta con Guarda, tutti gli influencer del mondo Si incontrano a Budapest con Will Smith Per promuovere questa cosa E da questa operazione, a questo incontro Devono uscire dei contenuti social Quindi sostanzialmente Adesso per abbreviare Arrivano, so, l'influencer tedesco Fa un TikTok con Will Smith Bella lì, bella fratello Auguri, buon compleanno Tutto questo nello slot Perché poi i junket con le figure internazionali Durano ai 5 minuti Una roba del genere Poi magari se sei un pochino più grosso Puoi chiedere 3 slot Quindi 15 eccetera E io mando una roba come 30 idee E me le cassano tutte Iniziano a dirmi No, questo non si può fare Ah, prima di prima devi mandare le idee Loro le devono Forza Ok No, no, vabbè Frate, ma è un mondo incredibile Cioè anche quando giri Ti prendono le schedine Per forza Perché stai parlando di divinità Cioè basta una parola sbagliata E quelli crolla il mondo No E praticamente la sera prima Ero già arrivato a Budapest Avevamo il no E mi viene in mente Scusate ma io ho Mi ricordo se avevo 15 minuti 10 minuti 10 minuti mi so Siamo in un albergo A fare i junket I junket sono Per chi magari non lo sapesse Sono quelle robe dove Tu hai il backdrop Che ho scritto dietro al titolo del film Ok Intervista Bella lì Lui semplicemente faceva 4 passi in avanti Ok Si toglieva dalla situazione junket E faceva l'extra junket Ok Tutti sullo stesso posto quindi Tutti sullo stesso posto Era terrazza Tipo una roba Io salgo su e dico Scusate ma Sono Quanti passi Saranno 15 passi C'è una stanza d'hotel E io giro Cazzo una notte con Will Smith Quindi scrivo il video Lo propongo Al team di Will Passo Ovviamente faccio Una scavallata Perché sono 40% Ora che arriva Will Smith Ci sono 40 persone Quindi lì ho dovuto fare Un lavoro di public creation Pazzesco Fino a quando Figo Cool Perfetto Chiusa Pazzesco Il problema è che C'è tutto gasato Ero lì con dei miei amici Tra l'altro Tutti gasati Cazzo poi arriva Will Smith Cioè ti entra La cracarella Quindi in realtà In quel video Non recito Cioè mi sto cagando In mano Poi il tipo Ti dico Cioè è rarissimo Trovare una persona Come lui Che ti mette a tuo agio È rarissimo Cioè mi ha messo A mio agio in tre secondi E addirittura È andato oltre Cioè io mentre giravo Avevo la publicist Che mi stava insultando In una maniera devastata Stavo urlando Dalla porta E un altro amico Che teneva la porta chiusa Così Will rimaneva con noi Ma sei serio? Sì sì assolutamente Assolutamente Poi uscita quella roba lì Anche lì Come Morandi È Cazzo un pass partù Pazzesco Perché se io poi vado da X E gli dico Voglio l'extra junket Guarda cosa è successo Con Will Basta capito Certo Quel momento è finito Tra l'altro La cosa divertente È che poi dopo che è uscito Will Vabbè A parte che è stata una case history Tipo in Universal Pictures Sony Cioè sono studiata Perché era il nuovo modo Di fare marketing Per i film Cazzo Diventa mio fan Jack Black E quindi diventa Cioè Capito È tutto un Un susseguirsi naturale Sempre però Legato a quello che è la creatività Cioè l'intuizione La creatività Cioè io penso di avere quello Poi Ogni tanto non ce l'ho La vita ti mette delle Tante opportunità davanti Poi uno le deve saper sfruttare Perché capito È chiaro No assolutamente Poi io ci sono dei momenti In cui scrivo delle cagate Cioè assolutamente Poi Però La cosa divertente È che quando scrivi delle cagate Se ne accorgono meno persone Perché non fanno successo Quindi diciamo Vabbè Ua Comunque capito Spari dieci Poi una Oh Quanto ritieni importante Il network Che ti sei creato Quanto ti aiuta poi In quello che fai ogni giorno Essenzialmente Dipende Dipende cosa devo fare Dipende cosa devo fare Molto in certi casi Poco in altri Cioè se mi devo mettere a scrivere Una campagna Mi serve a poco Dipende Se devo fare un podcast Cioè Deluso Finita la proiezione Tutto quello che vuoi Giustifico quel no Spiderman Era intervistato per Uncharted Cioè tu immagina Cosa c'è nella testa Di una persona Infatti io quando vedo poi i video Sai quelli che fanno a sgama Le celebrities Ah che stronzo Ben Affleck Ma ragazzi ma Ma voi non immaginate Cosa c'è dietro Cioè psicologicamente Io non oso neanche immaginare Che cazzo Cioè È devastante Riuscire a mantenere Quei ritmo lì Cioè poi vedi Will Capito A Budapest Dopo che ha fatto 700 interviste 2000 video Con i tiktoker tedeschi Spagnoli Hola Pedro Portorico Tutto quello che vuoi Cazzo che si presta A una roba così Cioè Esperienza Secondo me È semplicemente esperienza Si vedeva anche in video Comunque con Tome C'era un pochino più di Agitazione Avevi anche tipo La risata nervosa Non so Sì Non mi aveva messo A mio agio Poi io ero arrivato Da Da Sanremo Che avevo fatto Con Orietta Sulla nave da crociera Sì Quindi ero arrivato Letteralmente mal di terra Cioè io vedevo Tome così Capito Cioè mentre l'intervista Era una roba Sì era un attimo Demolito anch'io Però Ti ripeto Cioè Non voglio giustificarlo Ma devo giustificarlo Perché è così Capito Cioè Devi tener conto Di quello che Quella persona sta passando In quel momento Capito A primo occhitto Cioè uno Dico ignorante Per modo di dire Però che vede quella scena Dice Che stronzo No Ci sta Cioè secondo me La persona normale Al posto suo Era già un pazzo Che girava con 16 Ferrari E quindi c'era l'olio Capito cosa intendo E secondo te Cos'hanno loro Che noi tre non abbiamo Cioè In comune Ma i chi? I vipponi Ollywoodiani Come no Siamo vipponi C'è una caratteristica Il bambiorello Quando si sede ha detto man no perché è entrato di corsa, tu immagina che veramente aveva 40 persone dietro infatti dietro con la porta c'è il mondo, entra e faccio allora Will, dobbiamo fare questo perché non gli avevamo spiegato le scene perfetto, azione, boom, così fine, cioè neanche ciao piacere, poi dopo quando abbiamo finito avevamo messo anche su Instagram poi ci siamo messi a ridere, ci siamo messi a parlare non dico che è nato un rapporto però mi aveva invitato alla premiere di Bad Boys, siamo rivisti a Bad Boys cioè, mito ragazzi la follia